In occasione della nona giornata di andata della Serie B2 del campionato CSI di calcio a 7 femminile della provincia di Varese, le ragazze di Nexere Village sono impegnate nell'ultima gara casalinga prima della sosta invernale. Le giocatrici di mister Roberto Gatti vogliono dare continuità al filotto di quattro vittorie consecutive per mantenere imbattibilità e testa della classifica. Le ospiti del CG Luce Sumirago, dopo un discreto avvio di stagione, negli ultimi tre turni sono incappate in altrettante sconfitte e sono perciò alla caccia di un risultato utile per risalire la graduatoria. Le due squadre calcano il sintetico del Diego Bruga di Bizzarone alle ore 18 di domenica primo dicembre in una serata serena e gelida. Le padroni di casa, in maglia bianca, partono con Mauri tra i pali, Strambini, Panvini, coppia difensiva, Vidini in cabina di regia, supportata sulle fasce da Testoni e Pisoni, in avanti Bomber del Po. Le ospiti, in divisa rosso-blu, rispondono con Mancini in porta, linea difensiva presidiata dal trio composto da Ziliani, Martina e Giulia Broggini. A metà campo agiscono Pirola e Renis, chiavi dell'attacco affidate a Puricelli. Pronti via ed in Exere Village sblocca subito il risultato in proprio favore. Al secondo minuto, Del Po approfitta di una sbavatura difensiva delle avversarie, insaccando a due passi dalla porta. Colpite a freddo, le ragazze di Mister Zotti provano a controbattere al quarto, ma il tiro da fuori di Martina Broggini termina alto. Al sesto minuto, Del Po tenta la girata dal limite dell'area, senza però riuscire a infondere la necessaria potenza. La bomber del Bizzarone è comunque in serata di grazia ed un minuto dopo, al settimo, va ancora a segno. La numero 10, servita in area alla perfezione da Panvini, non si fa pregare e trafigge per la seconda volta Mancini. Il Del Po show prosegue al nono, quando l'attaccante bizzaronese si libera della propria marcatrice e scarica dal limite un bolide rasoterra che colpisce il palo prima di gonfiare per la terza volta la rete. Le rosso-blu non riescono ad organizzare la controffensiva e dal decimo rischiano ancora sulla conclusione di Pisoni, alta di un soffio. Sempre la numero 18, al tredicesimo minuto, centra il palo con un tiro la cui traiettoria inganna il portiere sumiraghese. Le ospiti tornano ad affacciarsi dalle parti di Mauri al quindicesimo, con un calcio di punizione da distanza siderale, che viene deviato in corner. Due minuti dopo, al diciassettesimo, Testoni batte a botta sicura, trovando l'opposizione di Mancin che alza sopra la traversa. Sugli sviluppi del conseguente corner, Del Po anticipa tutte, spedendo la sfera a lato del primo palo. Ghiotta occasione per il Cigi Luce Sumirago al diciannovesimo. Giulia Broggini, su calcio d'angolo dalla destra, trova la deviazione al volo di piede, non inquadrando per poco lo specchio della porta. In Exere Village tuttavia non demorde, continuando ad essere ottime trame di gioco. Al ventunesimo il diagonale rasoterra dalla destra di Testoni manca della necessaria precisione. Al ventitresimo la solita Del Po si libera di una marcatura stretta e dalla sinistra va alla conclusione, a lato. Dopo 60 secondi, al ventiquattresimo, Martina Broggini cerca fortuna da calcio piazzato, ma Mauri non si fa sorprendere e mette in corner con una parata alta. In chiusura di frazione, Manchin interviene con il giusto tempismo, rendendo inoffensivo l'affondo sul lato destro dell'area di un attaccante di Exere Village. Si va così a riposo sul 3-0 per le padrone di casa, brave nel realizzare una partenza sprint trascinate da una Del Po in grande spolvero. Nella seconda parte del primo tempo, match più equilibrato. La ripresa si apre nel segno di Pisoni. Il suo tiro da lontanissimo, al quarto minuto, non viene trattenuto dal portiere avversario, aiutato nel disimpegno da un difensore. La numero 18 di Exere Village ci riprova al sesto, senza ottenere il risultato sperato. Le ospiti si rivedono al settimo minuto, quando la bella punizione di Martina Broggini sorvola di poco la traversa. Al decimo, Del Po cala il poker. Ben servita dalla destra da Testoni, la bomber del bizzarone lascia partire una rasoiata che beffa Manchin. Le ragazze di Mister Gatti non alzano il piede dall'acceleratore. Al quattordicesimo, Sardo va alla conclusione dal limite, senza fortuna. Le rosso-blu, invece, sfruttano principalmente calci piazzati. Quello di Giulia Broggini, al quindicesimo, tuttavia non impensierisce Mauri. Passano pochi secondi ed El Po mette per la quinta volta la sua firma sul tabellino dei marcatori. La numero dieci irrompe in area a palla al piede e scarica un preciso tiro che carambola sui due pali prima di rotolare in fondo al sacco. Nel finale, il CG Luce Sumirago va alla caccia del gol della bandiera. Al diciassettesimo minuto, il calcio di punizione di Renis non va a buon fine. Al diciottesimo, invece, Giulia Broggini trova la spizzata di testa vincente sulla rimessa laterale dalla sinistra di una compagna. Prima del triplice fischio, c'è tempo per un'ultima occasione per le padrone di casa. Il tiro dal limite dell'area di Sardo, al ventiquattresimo, però è fuori misura. Netta vittoria per Inexere Village, che nella ripresa chiude i giochi grazie alle reti di una Del Po micidiale. Ospiti volenterose, ma poco incisive in avanti. Per le ragazze di Mister Gatti, che grazie a questi tre punti mantengono la leadership, all'orizzonte due impegni in trasferta, prima della sosta invernale che segna la fine del girone di andata del torneo. Paola, quei gol in apertura hanno aiutato a mettere la partita sui binari giusti? Esattamente, siamo entrati con la testa giusta, abbiamo fatto quello che il mister ci ha chiesto e quindi abbiamo cercato di mettere la situazione a posto fin dall'inizio. Il giro di Boa si avvicina, Inexere è ancora in vetta, può restarci se avanti così? Certamente, noi puntiamo a essere imbattute e a portare a casa più punti possibili. Speriamo di farcela fino alla fine e poi ricomincieremo ancora col piede giusto. È un campo che in un certo senso non ci aspettavamo, in quanto la palla ovviamente girava in una maniera un po' particolare, però abbiamo fatto qualche riuscivamo adattandoci a quello che potevamo. Forse quei gol a freddo hanno influenzato poi tutta la gara? Beh, ovviamente i gol iniziali danno un colpo abbastanza duro alla squadra, però cerchiamo sempre di prenderci nel migliore dei modi, anche con le indicazioni del mister, infatti nel finale siamo anche riusciti a fare il gol, ma cerchiamo sempre di fare il meglio che possiamo. Mister, ultimo impegno casalingo prima della pausa invernale, tra le muramiche questa squadra difficilmente delude. Sì, stavo giusto pensando l'altro giorno, è due anni che siamo imbattuti su questo campo, bene come bene, speriamo di continuare così fino alla fine, secondo me dovremmo avere un po' più di coraggio quando giochiamo in trasferta, però direi bene, siamo in testa, quindi meglio di così per adesso. A due turni dalla fine del girone di andata l'obiettivo è quello di diventare campione d'inverno? Beh, a questo punto per forza sì, non ci sono alternative, bisogna almeno campione d'inverno, poi dopo riposiamo, facciamo Natale e poi pensiamo come può andare a finire il campionato, ma sicuramente campione d'inverno, sicuro. Questa sera una menzione particolare per Bomber del Po ci vuole? Sì, quando ne segna cinque direi proprio di sì, però il merito credo sia stato da condividere con tutte le altre compagne che hanno fatto bene quello che dovevano fare, anche se siamo un po' calati, siamo un po' sedute sul 3-0, non sono molto contento di questo, però i gol che fa del Po sono anche frutto di tutto il lavoro del resto della squadra. Stefano, per voi questo è un anno un po' di transizione? Eh sì, abbiamo sette giocatrici nuove rispetto all'anno scorso, tante non hanno mai giocato a calcio e quindi dobbiamo cercare di inserirle in questo sport. Noi comunque andiamo a giocarci ogni partita, giochiamo a viso aperto, anche oggi secondo me abbiamo fatto una discreta gara contro comunque una squadra che è veramente forte e ben ordinata in campo, che gioca molto bene al calcio. Io non ho nulla da ridire alle mie, cioè hanno fatto il loro, ci hanno messo il massimo impegno e io sono contento di questo. Diciamo che più che il risultato si punta a creare un gruppo. Sì, si punta a creare un gruppo e per crescere insieme e più che altro si punta al futuro, l'anno prossimo, tra due anni, vedere noi veramente chi siamo.